Questa penisola con davanti l'isoletta di San Giulio, la frequentazione dell'isola ha fatto sì che nei secoli fosse costruito il paese tutto sulla sponda della penisola che rimane da quella parte. La distanza che c'è all'attacco verso monte, 400 metri, è la stessa distanza che c'è dal lago all'isola, 400 metri, quindi la nostra fortuna è stata che l'isola fosse più vicino alla sponda orientale piuttosto che alla sponda occidentale, altrimenti avrei dovuto fare la guida di Pella e non di Orte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.